ciao Manisha eccoci siamo tornati di nuovo dopo una piccola pausa ho bevuto un po' d'acqua mi sono sistemato un po' e di nuovo il cappello che non va mai a posto oggi vabbè siamo tornati qua, tutto bene per te? sì, tutto benissimo, grazie ti piace questa cosa? molto, anche sono contento credo che sia venuta fino ad ora molto bene nonostante qualche piccolo problema tecnico ma quelli ci sono sempre comunque ogni volta oggi prima di iniziare lui ha avuti ma sembra che adesso va bene senti volevo chiederti una cosa perché sono curioso a Londra è pieno di italiani, vero? giusto? sì, tantissimi com'è la situazione della vita? frequenti italiani o frequenti più inglesi o stranieri? io ho scusa io ho tantissimi amici italiani anche perché sono venuta in Inghilterra con due amici italiani quindi li sei portati dall'Italia sì, esatto esatto e ci sono tantissimi italiani anche dove abito io abbiamo proprio il gruppo di italiani però lavoro con inglesi dove lavoro io sono tutti inglesi o australiani quindi non parlano italiano parlano inglese e quindi c'ho insomma casa italiani lavoro inglesi e non solo comunque sai Londra è una città molto multiculturale quindi trovi persone da tutto il mondo che è una cosa molto bella mi piace un sacco tutto infatti sì immagino sì e quindi frequenti un po' tutti e due ma agli inglesi piacciono gli italiani? sì agli inglesi piacciono gli italiani li ritengono molto loud loro dicono loud che parlano ad alta voce che gesticolano sempre però la vedono in maniera positiva almeno quelli che ho incontrato io la vedono molto in maniera positiva che è una cosa bella sì generalmente hanno una cioè agli inglesi piacciono gli italiani sì adesso dico dico qualcosa ti chiedo qualcosa sui italiani cambiamo quando andiamo a vivere all'estero siamo diversi sì 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 penso che io mi sento cambiata e ho visto anche le persone attorno a me sono cambiate perché secondo me cioè io è un po' difficile non so bene come articolare la risposta perché io sono cambiata nel senso che ho visto cosa va qua e cosa non va in Italia e quindi quando torno in Italia sono abituata a ciò che va qua e lo ricerco anche in Italia ma è impossibile perché non esiste capito è un po' come all'inizio quando ero arrivata in Inghilterra cercavo le cose italiane sono abituata in Italia ma no perché quando ti trasferisci in un paese devi capire che stai lasciando determinate cose e non puoi pretendere di trovarle qua assoluto se no non ti trasferisci secondo me e quindi sì ho visto tipo anche per quanto riguarda la burocrazia qua è tutto molto più veloce secondo me questa è la mia esperienza personale ma penso sia tutto molto più veloce in Italia i tempi sono troppo lunghi anche se personalmente penso per quanto riguarda ho dovuto fare alcuni documenti in Italia e non ci hanno messo così tanto ultimamente però penso che la situazione sia ancora un po' così però poi noto anche che ci sono molte cose che qua non vanno mentre che mi piace in Italia vanno molto bene tipo la sanità è una delle cose che in Inghilterra apriti cielo no non va non va cioè proprio la sanità inglese secondo me non se compariamo la sanità inglesa quella italiana quella italiana è mille volte meglio sinceramente parlando sì capisco questa anche tu vieni da una bellissima città nel nord più che niente quindi anche questa è una differenza un po' in Italia però questi sono stereotipi ma sono veri però sai bene che nel sud la situazione è un po' più difficile non dove sono io io sono vicino Roma tra Roma e Napoli e ancora c'è Roma che ha dei buoni ospedali vicina ma più a sud della nostra situazione è un po' più difficile però sì assolutamente ho anche io delle conoscenze inglesi che mi dicono che le cose sono un po' peggiorate ho visto un video divertente su un social l'altro giorno di una un infermiere che suonava a una casa e cercava una persona e questa persona diceva no questa persona è morta da sette mesi una cosa del genere poi la telecamera si sposta questo infermiere si gira verso un'ambulanza e gli dice ok siamo arrivati tardi perché l'ambulanza del pronto soccorso è arrivata dopo sei mesi dalla chiamata secondo questo questa piccola non l'ho visto questo video è molto divertente poi te lo mando era molto carino triste tristissimo un po' un'esagerazione divertente ma triste se ci pensi dopo un po' no? però mi pare che questa è un'esagerazione ma gli inglesi si lamentano di questo non mi pare non sono contenti no non sono contenti comunque e poi ultimamente ci sono un sacco di scioperi non solo cioè ci sarà lo sciopero dei medici penso la settimana prossima lo so perché parlo con una dottoressa molto regolarmente e poi c'è stato lo sciopero delle ferrovie anche giusto delle ferrovie sì esatto che quello c'è sempre c'è costantemente uno sciopero nelle ferrovie guarda vabbè c'è stato lo sciopero degli insegnanti nelle scuole quindi sì sono perennemente in sciopero ci sono tantissimi scioperi ultimamente questo è incredibile per me perché fino a 20 anni fa eravamo noi il paese qui non c'è uno sciopero da una vita sì c'è stato uno sciopero dei trasporti qualche settimana fa ma un giorno voglio dire davvero questa situazione è molto cambiata in Italia per molte ragioni che io e te sappiamo soprattutto delle persone che non hanno più molta fiducia nei sindacati e queste cose poi tu vieni da una terra molto politicamente molto lo sappiamo bene ma tutto questo è cambiato noi eravamo il paese degli scioperi ma adesso la Germania scioperano in continuazione Inghilterra scioperano in Francia incendiano Parigi qui da noi qui da noi non succede quasi niente cioè o perlomeno non c'è quella intensità anche da noi era sempre uno sciopero ogni giorno prima adesso no è una cosa così strana tutta l'Europa è una cosa così strana tutta l'Europa sciopera noi no è strano questo è vero è vero è vero adesso che sì adesso che ne parliamo è vero non ci avevo pensato in realtà però è vero ma è molto strano anche sentirli lamentarsi di queste cose perché da italiani non siamo abituati un po' a certe cose però come hai detto tu devo ammettere che in certe cose io ho fatto il passaporto in cinque giorni quando ho fatto la prima volta il passaporto ci sono avute cinque settimane cinque giorni buoni io ci ho messo un mese vabbè forse dipende dalla zona sì no un mese per me era poco in realtà io lo considero non lo considero un lungo periodo di tempo però tipo una mia amica ha fatto domanda a gennaio e all'appuntamento a maggio wow davvero io sono andato nella questura cioè nel posto della polizia qui più vicino ho preso l'impronta poi ho detto vabbè qui ci vorranno due settimane tre settimane cinque giorni dopo mi hanno mandato un messaggio hanno detto vieni a ritirare il passaporto io sono rimasto molto sorpreso da questo non l'avrei mai detto è stato anche fortunato secondo me magari c'era anche poca richiesta era l'epoca del covid forse per questo è stato due anni fa un anno e mezzo fa un anno e mezzo fa ma comunque insomma ai londinesi insomma piacciamo un po' come persone ma secondo te perché siamo cambiamo quando andiamo lì o proprio gli piace la cultura italiana no io penso che comunque agli inglesi piaccia la cultura il cibo un sacco il cibo e tantissimi aspetti legati alla cultura italiana comunque e poi vabbè come abbiamo detto prima l'Italia è famosa anche per il settore automobilistico quindi Ferrari Maserati Lamborghini la moda la moda la moda esattamente le grandi marche no e quindi ci sono tanti aspetti che attirano gli inglesi non solo gli inglesi ma in generale gli stranieri e quindi poi soprattutto vabbè i monumenti tutto quanto insomma e poi anche la lingua perché a molte persone piace la lingua italiana anche se magari non l'hanno mai studiata ha comunque fama internazionale perché è una bella lingua suona è bella da sentire tutto no suona molto bene quindi sì sono tante cose io dico sempre che beh perché noi parliamo di italiano però tutti dicono questa cosa è molto musicale io per esempio però amo anche lo spagnolo perché mi piace proprio il suono dello spagnolo sì 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 però sì capisco questo adesso però dico un'altra cosa un po' cattiva gli amici inglesi mi odieranno ma è vero che gli italiani li riconoscono da come si vestono perché io quando sono stato in illiterra anni fa e anche cioè le persone sembravano davvero riconoscerti subito ok sei italiano ma senza parlare senza dire niente sai che è una cosa ne stavo parlando ieri con la mia amica che io quando vedo un italiano o un'italiana riesco a capire che è italiana l'italiana dall'aspetto fisico neanche vestito riesci a capire che è italiana l'italiana non c'è bisogno ti lasci qui una parola sei italiano l'italiana allora ti dico gli inglesi quasi vestono cioè a me non piace molto il loro stile è una cosa personale quindi certo può variare ma con i colori non sono molto mi sembra ad abbinare i colori eh sì gli italiani hanno più stile sinceramente io non so niente di moda però davvero anche io a volte dico ma in generale forse è uno dei motivi per cui amano la moda italiana non lo so perché davvero a volte vedo delle abbinamenti di colori molto strani secondo me sì ho notato anch'io quando vado in centro comunque c'è un po' di tutto ci sono delle ragazze o dei ragazzi vi senti benissimo eccetera poi ci sono altre persone magari sai sono più stravaganti eccetera e mettono insieme dei colori che magari io non metterei assieme capito non c'è niente di male ovviamente contenti loro cioè nel senso contenti tutti però sì capisco che magari è un po' diverso in Italia quando vai in Italia in centro comunque lo stile è un po' diverso assolutamente è vero e te ne rendi conto solo venendo qua cioè ti rendi conto veramente la differenza secondo me quando vieni a vivere qua sì sì no questo lo capisco infatti mi sembra che si può essere più rilassati qui quando vai in centro sembra che devi fare una sfida cioè vuol dire quando esci quando vai in un posto un po' sai come no devi sempre un po' vestirci stai sempre a te oddio io non troppo perché vabbè ormai sono vecchio non è più un problema però da ragazzi da giovani sai sempre sembra che devi uscire per fare una sfilata di moda quando vai da qualche parte no è molto competitivo diciamo qui in Italia no in una città un po' più grande senza neanche volerlo perché secondo me è un'abitudine ormai no e poi è una cosa un po' magari non so nel sangue non lo so può essere nell'aria diciamo nell'aria sì che magari non è presente in tutte le culture capito o comunque è diverso nelle altre culture esatto esatto perché tipo il senso estetico che magari trovi in Asia è elegantissimo è bellissimo ma è diverso da quello italiano assolutamente a me piace fare entrambi mi piace un sacco sì secondo me hai ragione su questo forse non è è un fatto che ovviamente ci sono gusti e diversi e idee diverse su quindi su cosa è normale cosa sembra un po' strano ma probabilmente quello che piace è il gusto italiano cioè non è il fatto che una persona non si sappia vestire no è semplicemente una cosa di gusti diversi però alle persone in giro per il mondo piace abbastanza il gusto italiano di vestirsi questo è il problema ma comunque in generale sicuramente ci sono molte cose che le persone ci invidiano non ci invidiano però che apprezzano nel nostro paese la storia tutti questi monumenti che a volte sono un peso perché nel senso te li senti ma poi sono anche un come dire un peso da trascinare perché a volte rimaniamo un po' indietro perché c'è questa roba no siamo legati un po' troppo alla tradizione e al nostro modo di fare le cose no siamo un po' provinciali dico sempre no sì è vero è vero poi magari anche perché ci fissiamo molto su quei pochi monumenti o siti archeologici eccetera quando in realtà c'è tutto un mondo in Italia che io stessa devo viaggiare non ho viaggiato abbastanza in Italia e ti rendi conto di quanto comunque di quante cose non hai fatto nel tuo paese solamente quando vai all'estero ti rendi conto che i turisti hanno visto più di te che sei nato che assurdo però è quello che succede poi vedo che anche qua è così molti inglesi non sono andati fuori da Londra io rimango ma come come però in realtà è la stessa cosa per noi a me cioè io in realtà ho visitato diversi posti in Italia però non abbastanza neanche io non tutto quello che vorrei vedere e a volte ti senti in difficoltà perché quando parli con qualcuno ah io sono stato qui e tu non sai niente è un posto famoso magari ma non sai niente e loro sanno più di te a volte esatto però è anche vero che pretendere di visitare un paese come l'Italia è una cosa che richiede una vita anche per noi che viviamo qui perché ci sono talmente tanti posti da vedere è davvero difficile no? sì e poi anche il tempo poi soprattutto quando lavori vai a scuola hai una famiglia magari c'è così tante c'è così tante cose che non non hai poi veramente il tempo di metterti lì esatto io molte volte quando ero in vacanza andavo all'estero quindi in realtà andavo a visitare i posti fuori dall'Italia perché dicevo vabbè avrò tempo di visitare i posti in Italia vado fuori e poi in realtà no esatto no è vero anch'io ultimamente apprezzo di più questo solo dopo il covid ho fatto un po' più spesso qualche gita qualche viaggio e ho cominciato a apprezzare mi piacerebbe farne molti in Italia in realtà prima di vedere altri posti ho qualche idea ma serve il tempo servono i soldi anche perché servono i soldi e chiaramente serve e certamente sono come molti stranieri che sono stati molte volte in Italia si comincia ad apprezzare anche i posti meno famosi quelli più diciamo più vicini alla vita delle persone ma anche molto belli in realtà che non si conoscono ce ne sono tanti esatto sì è vero verissimo sì e infatti nella mia esperienza dopo le prime volte che visitano in Italia queste persone poi hanno interesse proprio per questi posti più piccoli ma molto belli e anche pieni di cose da vedere infatti forse anche perché entri più a contatto con la gente del post magari più semplice e quindi ti immergi di più nella cultura perché magari sai se vai a visitare il Colosseo comunque non so il Duomo di Milano sì bellissimi entrambi però ci sono così tanti posti in Italia che vanno visitati che magari ti permettono di immergerti meglio nella cultura eccetera non lo so quei posti dove non ti rispondono in inglese quando li parli esatto esatto sì ci sarebbe una lista da fare però poi ci metteremo 30 anni solo a finire una lista neanche questa è la lamentela più più che sento fare più spesso da quelle persone che aiuto che loro provano a parlare io gli dico sempre parlate perché come sai noi italiani non siamo pignoli sulla lingua a noi ci interessa comunicare se qualcuno conosce la nostra lingua per noi è un piacere quindi non ci mettiamo ok non parlo con te perché non parli bene l'italiano no siamo contenti però poi vanno in questi posti più turistici loro provano a parlare l'italiano e gli rispondono in inglese è una cosa molto stupida secondo me sì è vero è vero e purtroppo sì succede soprattutto nelle zone turistiche succede quasi sempre sì e questo magari scoraggia anche la persona a continuare a parlare in italiano esatto questa è altra lingua a me scoraggerebbe però assolutamente perché vuol dire ok non so parlare e non vuole parlare con me è chiaro non è una bella cosa ma in generale la tua opinione sull'Italia da quando sei fuori da quando insegni anche che parli con queste persone che vedono il nostro paese in certi modi è cambiata? sai vivendo in Italia ho sempre apprezzato l'Italia e adesso l'apprezzo di più perché vivendo fuori comunque apprezzo anche l'Inghilterra mi piace vivere qua assolutamente però ritengo che la qualità di vita per me fosse migliore in Italia per me la qualità di vita dipende da diversi fattori chiaramente il clima il sole il cibo e le persone io ho tantissimi amici qua mi trovo benissimo però sai con gli inglesi per esempio non c'è il calore umano che magari hai con gli italiani ma questa è una cosa culturale e sì queste cose insomma apprezzo molto anche in generale la bellezza dell'Italia le campagne italiane perché mi piacciono un sacco le campagne inglesi esempio stupido però le campagne italiane sono bellissime non me ne ero mai resa conto prima veramente capito sì 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 quindi sì ci sono tante cose che mi mancano dell'Italia e che mi hanno portato ad apprezzare di più l'Italia rispetto a prima e non a fare il brontolone come me perché sono un brontolone io vivo ci sono tante cose che potrebbero cambiare in Italia insomma non so se cambieranno però ci speriamo ci sono cose che vanno cambiate ma tutto il mondo è paese quindi assolutamente questa è la grande verità e ragione ma comunque anche io devo dire devo ammettere che quando da quando parlo con molte persone straniere quando passeggio anche nella mia piccola città insomma guardo quello che c'è comincio a dire beh però in effetti non è così male dai vivere in Italia anzi non è per niente male vivere in Italia a parte i problemi io che abito qua una delle differenze principali che noto è che in Italia è tutto un po' più lento la vita è un po' più lenta rispetto a qua a Londra qua è molto più frenetica sono sempre tutti a correre a lavorare eccetera forse anche per questo che le cose funzionano eh beh certo però sai certe volte hai bisogno un po' di pace di quiete di sederti al caffè a bere un tavolo di bar a bere il caffè l'aperitivo sì come piace a noi sì quella passeggiata tra il centro in piazza delle piazze centrali esatto assolutamente sono le cose che un po' mancano però vabbè sono abbastanza spesso in Italia ma invece l'insegnamento della lingua ti ha dato qualche come dire cosa cosa ha dato alla tua vita personalmente e che soddisfazione ti ha dato delle buone soddisfazioni fino ad adesso tantissime tantissime soddisfazioni adesso non me le ricordo neanche tutte però mi piace è un lavoro che veramente mi appassiona inizialmente appena iniziai a insegnare italiano all'epoca mi piaceva però non ero sicura perché comunque ero molto giovane e volevo provare altre cose infatti ho provato altre cose però poi alla fine tornavo sempre all'insegnamento all'insegnamento d'italiano sì e mi piace perché comunque incontri persone da tutto il mondo e insegno una lingua che mi piace e poi mi piace vedere gli studenti che si appassionano alla lingua soprattutto quelle persone che magari imparano la lingua per lavoro che non hanno veramente una passione per l'italiano eccetera che non è obbligatorio essere appassionati esatto l'importante come ho detto prima la costanza e avere degli obiettivi se tu hai un obiettivo è già tanto e soprattutto con la costanza è tutto il pacchetto diciamo però sì mi piace molto vedere gli studenti contenti di venire a lezione e felici di essere lì ecco sì quindi questo cambiamento anche magari iniziare senza troppa passione poi piano piano amare la lingua e diventare più contenti felici di imparare esatto io cerco sempre di dare il meglio e comunque far sì che le persone amino le mie lezioni e comunque si appassionano alla lingua e che la continuino comunque a studiare anche se non con me con qualcun altro comunque anche da autodidatti un giorno capito sì queste cose qua in realtà poi mi hanno portato non so se l'ho già detto che ho conosciuto tantissime persone tramite questo lavoro tantissimi insegnanti oh questo no sì certo tantissimi insegnanti conosciuta anche te quindi sì infatti conosciuti anche noi e poi ho imparato tanto anche dal punto di vista sai di come posso spiegare ho imparato tanto per quanto riguarda preparare una lezione la didattica la didattica esatto esatto e perché prima a scuola vabbè aveva un programma dovevi seguire il programma ovvio non era un programma rigido era abbastanza flessibile dovevi vedere un po' lo studente com'era però sai quando insegno online ai tuoi studenti è un po' diverso perché non hai quel programma rigido io personalmente non ho un programma rigido eh è molto personalizzato per lo studente e è molto personalizzato anche a seconda del gruppo di studenti che ho se è una lezione di gruppo certo e quindi un po' di esperienza professionale anche sì sì poi ho imparato un sacco ho imparato a usare un sacco di software nuovi un sacco di un sacco di cose ecco sì sì questo forse per te è meno vero perché tu già sei in una città come Londra molto internazionale molto ma per me è stato anche un riscoprire insomma una visione più ampia del mondo ok perché comunque parli con persone da tutto il mondo questo è un grande regalo per me e la migliore alternativa a viaggiare è quella di fare questo perché ho una finestra su ogni paese del mondo quasi e questo è un privilegio secondo me è anche un'apertura mentale più grande perché senti scusa vai vai solo senti questa questa è come se esci un po' come se guardi il pianeta dallo spazio perché invece sei nella tua realtà ma quando conosci tante persone di tanti altri paesi capisci che c'è un mondo insomma cominci a vedere quel mondo no è più apertura mentale no è vero poi è bellissimo quando dopo anni magari che non sono più i tuoi studenti comunque ti ricordano ancora ti scrivono ti auguro buon compleanno buon Natale buona Pasqua comunque si ricordano di te questo è bellissimo comunque perché vuol dire che hai lasciato comunque una traccia positiva perché se no no è un lavoro comunque bello richiede pazienza devi amarlo questo lavoro perché se no non ce la fai è vero è vero devi piacerti a me fa io parlo ancora con persone ho iniziato più o meno 5 anni fa questa cosa ci sono persone che ancora parlano con me dopo 5 anni questa è per me una grandissima soddisfazione perché quando qualcuno continua a parlare con te per 5 anni vuol dire che qualcosa di interessante lo dici sicuramente sicuramente avrebbero già cambiato da molto tempo esatto 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 vabbè siamo arrivati quasi alla fine solo qualche ultima domanda un po' più personale hai qualche progetto qualche bella cosa che vuoi fare o che è in cantiere noi diciamo in cantiere in costruzione no sì sicuramente allora ero molto più attiva sui social media network lo so ultimamente non sono molto attiva e adesso sto cercando di creare più contenuti e di essere più costante appunto nel pubblicare ma purtroppo con il lavoro e tutto è stato un po' difficile quindi sicuramente essere più attiva sui social media e sto preparando un corso però non do molte informazioni perché non ho ancora abbastanza informazioni da dare però sì un corso e sì produrre più materiale insegnare più lezioni inizierò a insegnare un altro gruppo di studenti a scuola settimana prossima quindi sì sarò ancora più occupata però sono contenta sono molto contenta sono contento anche io per te mi fa molto piacere io la settimana prossima vado a fare un piccolo viaggio facciamo qualche giorno fuori sì vado a Torino io non sono mai stato neanche tu mi pare detto neanche io sono curioso di esplorare quest'altra città italiana che non conosco la città mi hanno detto sì sì e poi sì anch'io mi devo mettere sotto come diciamo noi mi devo dare da fare insomma con contenuti come questo e anche con il mio blog sono un po' lento ottimamente il mio podcast va bene ma beh se è meglio di me com'è no a volte non c'è il tempo quindi è solo questione di tempo è faticoso è faticoso ma comunque diciamo che oggi abbiamo fatto questo abbiamo creato un po' di contenuto per i nostri amici sì esatto e quindi beh sì anche io ho un po' gli stessi obiettivi insomma di darmi un po' da fare con questa roba qui speriamo che vada bene a tutti e due andrà bene sicuramente sono sicuro che grazie al tuo aiuto andrà il mio canale YouTube andrà ancora meglio adesso lo spero lo spero sì poi chiaramente metterò anche nei miei canali metterò tutti i tuoi contatti come dicevi tu e qualche informazione per trovarti per raggiungerti perché mi fa piacere ovviamente che anche le persone che io conosco conoscano te quindi sono contento di questo grazie a te anzi per il tuo tempo e grazie ancora per avermi concesso una parte della tua pasquetta no figurati è stata una bella esperienza comunque anche per me è stato molto piacevole e spero magari qualche altra volta sarei mia ospite o io verrò ospite da te non lo so è qualcosa guarda no adesso non lo dico però è uno dei contenuti che volevo cioè tipo questo format mi piacerebbe portarlo anche sul mio canale magari non proprio così un po' perché non avrei il tempo di fare una cosa così però qualcosa del genere sono disponibile quando hai qualcosa da propormi a me piace trovare sempre e non è nessun problema va bene per oggi direi che è meglio goderci un po' di pasquetta anche se io devo fare altre cose spero che la sbaglio mi sa è uscito un po' il sole un po' il sole prima non pioveva come ho detto prima però devi approfittare allora sì sì fatti fatti ok allora ti ringrazio ancora una volta ti lascio alla tua pasquetta ti auguro una bella giornata e ti auguro di avere molto sole nella seconda parte della giornata grazie grazie a te e se se ti va lo facciamo altre volte come abbiamo detto sicuramente sì per oggi è tutto qui quindi saluto te e saluto i nostri amici ciao e buona pasquetta a te e a tutti ok ciao Mariscia ciao alla prossima ciao ciao Grazie per la visione!